Da questo convegno viene forte il monito a collaborare persone insieme non più individuo da solo ma professor Vittadini ci approfondisca meglio questo concetto. È un mondo complesso in cui chiunque pensa di avere le ricette per risolvere i problemi da solo ha fallito clamorosamente in questi 30 anni. Quindi collaborare vuol dire avere l'umiltà di capire che da soli non si basta nell'economia, nella società, nella politica. Non basta lo Stato, non basta il privato, non basta il grande demiurgo. Occorre mettere insieme le forze per arrivare a soluzioni condivise secondo quel compromesso virtuoso che per esempio in politica lo stesso Ratzinger diceva essere il punto cruciale della vita ma anche lo si vede nella vita economica e adesso addirittura nella sanità. Parlare oggi di sussidiarietà non vuol dire solo parlare di un grande principio giuridico piuttosto che di una grande ispirazione teologica ma vuol dire cominciare a pensare al mondo d'oggi dove non possiamo più lasciare cadere il tema dell'uomo. L'uomo non è più un uomo singolo, tutta la tradizione del 700, dell'800 dell'uomo che si autodetermina ma oggi l'uomo si rende conto, la persona si rende conto che non può più vivere da sola, anche la malattia, anche la pandemia paradossalmente l'ha dimostrato, non è più la mia malattia ma il mio essere malato è il male di tutti. E quindi ci ha fatto vedere a vari livelli che dobbiamo veramente ripensare a tutto, lavorare per trovare il vero senso delle connessioni tra uomini e tra formazioni sociali e tra gruppi. Abbiamo un grande lavoro davanti che è la cosa più bella come abbiamo potuto vedere quest'inverno. Le persone vivono delle realtà bellissime, spesso non hanno nessuno con cui discutere e soprattutto non si riesce a fare sinergia per proporre sia alla città, soprattutto non si riesce mai a trovare il modo di dialogare e di potersi aiutare per proporre qualche passo in avanti alla comunità. Perché ricordiamoci che la sussidiarietà è in funzione di una comunità diversa e noi respiriamo temi nazionali ma vogliamo fare questo in un ambito locale per cercare di costruire una comunità più vivibile.